volevo fare a voi tutti e tutti gli auguri di un seno natale di un felice anno nuovo e ringraziarvi ringraziarvi per quanto avete fatto per quanto avete dato nel corso di quest'anno che si sta chiudendo il corso del 2023 un grande sforzo corale che ci ha portato a raggiungere altri importanti risultati a mettere in piedi altri importanti progetti per questa teneo per il territorio dobbiamo continuare in questa direzione in maniera determinata nulla ci deve fare arretrare neanche di un centimetro quello che è importante è proseguire in questa direzione nell'interesse stesso della comunità degli studenti e studentesse in primo luogo ma di tutto il nostro territorio siamo sicuramente il faro culturale il gateway tecnologico di questo territorio ma siamo forse di più siamo un patrimonio collettivo l'abbiamo dimostrato nel corso di questi ultimi anni e sicuramente nel corso del 2023 ecco il mio auspicio per il 2024 è che si possa lavorare tutti insieme nella medesima direzione anzi rafforzare gli sforzi perché io so che posso contare moltissimo su tutti voi ecco questo è l'altro aspetto importante sapere di poter contare l'uno sull'altro questo è l'elemento che rafforza la comunità e forse in prossimità del natale non è l'agurio più importante continuare a essere una bellissima comunità qual è l'università del salento nelle contrapposizioni che ogni tanto animano le nostre discussioni animano i nostri momenti corali e l'ultimo riferimento non può non essere che alla pace io l'ho scritto il messaggio di auguri non possiamo non possiamo sperare che la pace nasca al di fuori di noi se non la portiamo dentro di noi se noi siamo portatori fondamentali di questi di questo valore della pace ecco questo dobbiamo farlo impegnandoci come università impegnandoci nella didattica impegnandoci nella ricerca nella terza missione e anche nelle relazioni internazionali indipendentemente dai confini indipendentemente le barriere ideologiche dobbiamo invece creare ponti con le culture ponti con le civiltà ponti con i popoli questo il messaggio più importante l'università è questo un luogo di dialogo aperto a tutti a tutti ecco io penso che questo sia un altro grande importante obiettivo e ultimo e non ultimo la questione delle politiche di genere io penso quello che sta accadendo nel nostro paese è assolutamente incomprensibile noi dobbiamo fare in modo che questa violenza contro le donne finisca devo dire è una delle cose che mi ha lasciato più perplesso nel corso di quest'anno attonito io non riesco a capire come un popolo come il nostro sia in grado di esprimere questa brutalità sia in grado di non comprendere che le donne sono una risorsa eccezionale incredibile per lo sviluppo del nostro paese e che forse ecco come io dico il paese non ha capito che risorse al mezzogiorno da mettere in gioco per lo sviluppo così vi dico il paese non ha capito che risorsa incredibile è la donna nel nostro paese ecco perché io spero che anche quest'anno sia un anno di rinascita anche da questo punto di vista altri auguri potrei fare ma mi fermo qui veramente buon natale a tutti e felice anno nuovo